Vi annuncio con il decreto appena approvato, diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, che siano piccole, medie, grandi. 200 miliardi per il mercato interno, finanziamento del mercato interno, altri 200 miliardi per potenziare il mercato dell'export. Ho sentito ovviamente la difficoltà di tutte le categorie che c'è in questo momento rispetto alla mancanza di liquidità. Ovviamente questo è un problema maggiormente sentito a livello di piccole aziende o micro piccole aziende. Ottima notizia, sperando che le modalità e le condizioni per ottenere i prestiti in banca non vanifichino l'urgenza di dotare il mondo imprenditoriale a corto di liquidità. Luci e ombre nel mondo economico veronese sul decreto emanato ieri sera dal governo. La criticità principale riguarda ancora una volta i risvolti burocratici legati all'accesso al credito. La necessità di liquidità oltre ai 25 mila euro infatti imporrebbe un iter tradizionale che allunga i tempi per l'erogazione, vanificando l'urgenza richiesta dalla quasi totalità delle imprese. È una cifra enorme che andrà sia a beneficio, come dicevo, del mercato interno sia del nostro export attraverso prestiti che verranno erogati attraverso i normali canali finanziari, con la particolarità che lo Stato offrirà una garanzia perché il tutto avvenga in modo celere, spedito, sicuro. Non dobbiamo dimenticare che si tratta sempre e comunque di un prestito. Certo, è un prestito garantito dallo Stato, è un prestito a tasso zero, sono prestiti che dovranno essere restituiti nei prossimi 5-6 anni, ma entreranno a far parte dell'attività aziendale o delle attività economiche e delle imprese come un finanziamento di terzi e quindi andranno ad aumentare la propria passività. L'esclusione, poi, nel processo della gestione del credito dei confidi territoriali, certo non aiuterà le istruttorie delle banche che in questo periodo hanno dovuto riorganizzarsi con lo smart working. Un gioco di squadra, siamo convinti, avrebbe sicuramente aiutato. Abbiamo anche varato importanti misure fiscali con sospensione di vari pagamenti, di ritenute contributi anche per i mesi di aprile, per i mesi di maggio. Bene, il rinvio dei versamenti fiscali contributivi per le aziende in crisi per aprile e maggio, anche se ci saremmo aspettati rivii congrui al momento. Sono convinto, infatti, che molte aziende non avranno la liquidità per onorare il versamento delle tasse a fine maggio. E quindi i settori economici come il turismo, come il commercio, come attività, che ovviamente vivono con la creazione di liquidità legata all'attività produttiva giornaliera. E quindi questa chiusura totale ha prodotto un effetto veramente devastante. Il mondo delle imprese, con le associazioni di categoria che rappresentano l'intero tessuto economico del territorio, comprendono la prudenza, tuttavia in questo momento storico ribadiscono la necessità assoluta di fare scelte coraggiose. Io quello che posso dire è che confermo. In questi giorni mi sono confrontato con tanti leader europei. Tutti tengono a esprimere solidarietà, sostegno al nostro paese. Quindi vi dovrei trasmettere la solidarietà di un lungo elengo di leader di tanti paesi che ci sono vicini. Tutti esprimono l'ammirazione per la forza, la resilienza del nostro paese. Come imprenditore, come Presidente da Cama del Commercio, devo rilevare che evidentemente è una goccia in un mare molto grande. È una potenza di fuoco. Io non ricordo effettivamente un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica a favore per il finanziamento delle imprese. Bene quindi il provvedimento, purché sia attuabile. Non vorremmo sostenere tra qualche tempo che l'operazione è tecnicamente riuscita, ma il paziente è morto.